Sì, grazie Presidente. In particolare per quanto riguarda questo primo ordine del giorno, ciò su cui non siamo d'accordo è l'inciso entro l'anno 2019, in quanto, come già detto durante la discussione generale, siamo naturalmente pienamente d'accordo con noi stessi, nel senso che noi da sempre diciamo che dobbiamo pubblicare i bandi, quindi sì, ovviamente siamo d'accordo, però lo faremo nel momento in cui si sarà trovato l'accordo per andare prima a realizzare gli interventi di cui abbiamo parlato in precedenza e quindi in questo caso ci asterremo. Tra l'altro, visto che è stato citato il bando sulla Maratona di Roma, che è stato fatto dall'attuale amministrazione per la prima volta in 25 anni, la Maratona è stata assegnata tramite un bando pubblico. Il risultato di questo bando è stato che chi ha vinto la gara si è impegnato a pagare... Sì, anche in riferimento all'intervento precedente, anche a lei consigliere. Per quanto il tema della Maratona di Roma sia interessante, però non è né il tema di oggi né dell'ordine del giorno. Ok, comunque concludo dicendo che l'amministrazione per la prima volta nella storia da questo evento incasserà 500.000 euro l'anno, non era mai successo, quindi siamo orgogliosi di aver messo a bando questo grande evento e ci asteniamo sull'ordine del giorno in esame. Grazie. Grazie.